Noi chiediamo soltanto per questo banchetto che noi avevamo fatto nella nostra città, uno sfregio per la roba più fascista, venga a cosa, venga tanto anche in fretta, ma questo banchetto non doveva mai essere autorizzato, non doveva mai esistere, loro sono qui per raccogliere delle firme, delle firme per presentarsi alle elezioni, quelle che secondo la loro energia vorrebbero anche a meno, quelle che durante il ventennio erano emegate e adesso sono qui ad approfittare degli strumenti della democrazia formale per poter presentarsi e per poter entrare nelle istituzioni. È una vergogna, è una vergogna che la prefettura e la questiona permettono che questi fascisti, queste merde, possano stare nella nostra città e possono raccogliere liberamente delle firme. Noi adesso iniziamo da mettere perché vogliamo che questo banchetto venga corto. Berogna! 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 Siamo tutti ardi fascisti! Siamo tutti ardi fascisti! Siamo tutti ardi fascisti! Siamo tutti ardi amici! E dovete andare a mettere lo fascisti di merda! Si chiudono col vino!